La nostra salute non è in vendita. Dico sempre questo quando mi presento con i ragazzi delle scuole per parlare di FAS. La salute è un bene comune. La salute è un servizio che garantisce tutte e tutti. Per questo motivo io sono per il servizio nazionale statale pubblico e sono contro la privatizzazione di essa perché mira solo il profitto.